Sono Fabian Negrin e vi parlerò del mio ultimo libro che si chiama Alfabetiere delle fiabe. È un alfabetiere in cui ogni lettera è una fiaba. Parte da aladino per la A, la bella documentata per la B, il cappuccetto rosso per la C, fino ad arrivare alla zucca di cenerentola con la Z. Ci sono già tutte le fiabe, le fiabe sono in rima e ogni fiaba ha una illustrazione. Questa è una grafica ancora in lavorazione, non quella definitiva. La doppia pagina è composta dalla rima a sinistra e l'illustrazione a destra. La biancaneve, la peronso, la sirenetta, questa è la lettera X che è una fiaba cinese che le illustrazioni, alcune sono queste, sono acquarelli, tempere, la femmiferaria, qui c'è biancaneve, con una soggettiva della mano della strega che dà la mela e vediamo i nani che arrivano da lontano. Questa è la fiaba che apre il libro, aladino. Abbiamo l'orco di Pollicino, questo è l'originale di quello che vi facevo vedere. Questa è Basilissa la bella e la babaiaga, la sirenetta in cui c'è la tempesta, lei la vediamo da dietro, sta assistendo al naufragio della nave dell'uomo di cui si innamorerà. Gatto con gli stivali, c'è una doppia pagina invece, che è il lupo cattivo, perché unisce due fiabe, i sette capretti e i tre porcellini. Vi leggo la fiaba più corta, per dare un'idea del testo. Marciava nel bosco capucetto rosso, quando trovò il lupo che rosicchiava un osso. Dove vai, bambina, cos'è questa fretta? Porta una torta alla nonna che aspetta. Prendi la strada destra, è la più corta, non era vero, era più lunga e storta. Così lui arrivò per primo dalla nonna e la mangiò in un morso, povera donna. Poi si messe sui vestiti e andò al letto, arrivò capucetto e notò un difetto, che orecchi grandi che hai, cara nonnina, è per sentirti meglio, dolce bambina, e che occhi grandi sembri un'indovina, è per vederti meglio, tenera ragazzina, e che denti grandi che hai sembri un coiote, è per mangiarti meglio, appetitosa nipote. E si pappò capucetto in un solo boccone, senza lasciar fuori un singolo bottone. Per fortuna un cacciatore che da lì passava aveva sentito tutto, e lesto col fucile sparava, uccise, pum, il lupo cattivo e dalla grossa pancia uscirono nonna e bambina, un coniglio e un'arancia. Capucetto rosso tornò a casa contenta e le successive volte stete un po' più attenta. La copertina, il libro è tutto finito, manca soltanto l'originale della copertina, che è in lavorazione, il colore, qua vedete come sarà la copertina, con l'impaginazione, questa è la parte dunque della copertina, e questa è la quarta copertina della quarta. Cosa altro dire di questo libro? Il jack e il fagiolo magico, pollicina, con tutti gli animali che partecipano alla sua sventura, la bella addormentata, il drago, alcune sono fiabe, altre sono sempre fiabe ma puntando diciamo sul topo se fiabescono, il drago, la strega, l'orco. tutto qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.